Il Comune di Giulianova ha annunciato che si è concluso l'iter per procedere all'armamento del personale della Polizia Municipale. L'obiettivo, come più volte ribadito dall'amministrazione comunale, è quello di consentire agli agenti di poter rimanere in servizio fino a tardanotte e di rafforzare quindi in maniera significativa il controllo sul territorio. Le procedure dell'armamento, durato diversi mesi e giunto a conclusione, saranno 10 le pistole di cui verranno dotati altrettanti agenti della Polizia Municipale. che nei mesi scorsi hanno dovuto sostenere il corso di abilitazione per la detenzione dell'arma. La prossima settimana il Comandante Roberto Giustini ha annunciato che in programma l'assegnazione delle armi. Questo significa che per fine mese gli agenti del Corpo di Polizia Locale verranno dotati delle pistole. Parole di soddisfazione sono state espresse dal Sindaco Ivan Costantini. Finalmente le forze della Polizia Municipale verranno dotate di uno strumento che fungerà unicamente da deterrente e che quindi ci auguriamo non verrà mai utilizzato. In tal modo gli agenti potranno prestare servizio anche fino alle 2 di notte in base a specifica ordinanza sindacale.